Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo entusiasmante aggiornamento. Oggi parleremo di una notizia sorprendente riguardante Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power. Ma prima di immergerci nei dettagli, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su notizie emozionanti come questa. E ora passiamo alla notizia del giorno. Romina Carrisi ha confermato di essere incinta e ha rivelato alcuni dettagli importanti sulla sua gravidanza durante un'intervista a Verissimo, andata in onda il 7 ottobre. La 36enne Romina Carrisi e il suo compagno Stefano Rastelli, 53 anni, stanno aspettando un bambino. Romina ha svelato di essere incinta da 5 mesi e mezzo e ha spiegato che ha mantenuto la notizia segreta per un po' di tempo, preferendo godersi la gravidanza in privato. Il termine previsto è il 14 gennaio. La notizia ha portato grande gioia sia a Romina che a Stefano, che sono insieme da un anno e mezzo. Ma come hanno reagito mamma Romina e papà Albano? Romina ha raccontato che sua madre ha usato il pendolo per indovinare il sesso del bambino e le ha predetto una bambina e poi un maschietto. Invece, è stato rivelato che Romina aspetta un maschio, sorprendendo tutti. Romina ha preferito mantenere il nome del bambino segreto per ora. Inoltre, Romina ha condiviso un momento personale toccante durante l'intervista. Ha rivelato di aver abortito in passato per scelta personale perché non voleva essere madre e single. Romina ha sottolineato l'importanza di avere un padre e una madre per un bambino e ha espresso le sue opinioni sulla libertà di scelta delle donne riguardo al proprio corpo. Il suo compagno Stefano ha già due figli. Emma e Lola. Rispettivamente di 19 e 16 anni. E Romina ha sottolineato che il suo rapporto con l'ex moglie di Stefano è buono. Lei e Stefano lavorano insieme per garantire il benessere delle loro famiglie e cercano di evitare ai loro figli le difficoltà che Romina ha vissuto durante la sua separazione dai genitori. Un tocco di romanticismo è stato aggiunto quando Romina ha svelato che ha conosciuto Stefano in Rai. Dietro le quinte del programma, oggi è un altro giorno. La trasmissione condotta da Serena Bortone è stata il luogo in cui l'amore tra Romina e Stefano è sbocciato. Questo è davvero un momento speciale nella vita di Romina Carrisi. E siamo felici di condividere questa notizia con voi. Se vi è piaciuto questo aggiornamento, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre informati sulle notizie più recenti. E congratulazioni a Romina e Stefano per la loro gioia. Ci vediamo al prossimo video.